...che anticamente si è conservata, non escevo, già da lungo tempo, riqua. ...da ogni parte, da raffiche di vento e da pioggia scrosciata. ...conosciutissime, quindi la curiosità, secondo me, è stata il motore... ...fine un po' turbolenti, addirittura era stato progettato... ...era Annone, beh... ...scusa... ...e con la macchina! Mi sono un po' imbarbagliata... ...città per buona parte della metà del Seicento... ...santo cielo! ...ehm... ...cosa... ...mazzo riesce a... ...immaginate... ...immaginate che lascia... ...ma la smetti! ...ehm... 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 ...ehm...